La chiamavano edilizia residenziale, una definizione coraggiosa che accompagnava la nascita, erano gli anni del boom della casa, di quartieri in teoria ospitali per la classe operaia. Di fatto da quell'idea sono venuti fuori i peggiori agglomerati urbani d'Italia, dalla napoletana Scampia al milanese Quartogiaro, passando per lo Zenne di Palermo. E anche Pescara, seppur in minor misura, ha dovuto sopportare la creazione di autentici quartieri dormitorio, nei quali convogliare l'enorme massa di rom stanziali accanto ai destinatari originali, ossia, come detto, le classi meno abbienti. Ecco quindi la tristemente famosa Rancitelli e la meno pubblicizzata Fontanelle. I negozi all'ingrosso e gli ipermercati della Tiburtina sono lì, a due passi. Il degrado di Fontanelle è però quasi nascosto ai più. Padre Massimiliano, detto Max, il parroco della locale parrocchia, da tempo lancia il grido d'allarme per il degrado ambientale e sociale della zona. Oggi anche i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno voluto alzare il tappeto e far vedere la polvere nascosta. Noi innanzitutto come gruppo consigliare del PD abbiamo raccolto il grido d'allarme, coraggioso tra l'altro, di Don Max, Don Massimiliano della parrocchia, che ha voluto dare voce a tutto il disagio che le popolazioni che vivono in questo territorio devono sopportare da tempo. Noi riteniamo che ci debba essere innanzitutto l'istituzione di un posto fisso con un assistente sociale, con un vigile, insomma cominciare a dare una presenza delle istituzioni in questo territorio abbandonato. Dopodiché crediamo anche che l'esempio di Don Max vada valorizzato. Vorremmo che intervenisse in un consiglio comunale, dove potrebbe prendere la parola, perché credo sia davvero da esempio a favore delle persone che non hanno voce.